Amici di Radiofonica.com, ben trovati in questo nuovo episodio di Ternana Focus. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Francesca Imprezzabile della Ternana Calcio Femminile. Ciao Francesca! Ciao a tutti! Come stai? Bene, bene, grazie. Tutto a posto. Abbiamo fatto allenamento questa mattina. Hai fatto allenamento questa mattina. E com'era la giornata? Un po' nuvolosa? No, bene, bene. Qua si sta bene a Terni. Adesso c'è il sole, quindi stiamo tutte a posto. Senti, ascolta, ma tu di dove sei? Perché non sei di Terni, appunto. No, io vengo da Piacenza. Ho fatto... vabbè, inizialmente sono uscita, ho fatto i primi anni a Sassuolo, poi l'anno scorso era Verona, adesso sono qua quest'anno. Quindi... Ti piace Terni? Ma come città, sì, è molto piccola. Sono sempre stata abituata a città grandi, comunque. Però sì, dai, nel suo piccolo non è male. Poi essendo vicino a Roma, comunque... Roma è una bella città, quando vogliamo, dopo le partite andiamo a fare qualche giro là. Quindi sì, dai. Ah, che bello, questo non lo sapevo. Quindi andate spesso, insomma, giù a Roma, passate il tempo insieme, insomma. Eh, quando le giornate, però sì, per sbagare un po', poi essendo tutte qua con gli appartamenti, sono tutte molto vicine, quindi il tempo passa. Sì, poi vabbè, siamo impegnati tutti i giorni, tra allenamenti, palestre, così... Passano veloci le giornate. Ci credo, ci credo. Ascolta, ultima partita con il Tavagnacco è andata benissimo, 4-0, ho visto... Sì, abbiamo fatto un po' fatica al primo tempo, perché non riuscivamo a sbloccarci. Poi dopo, vabbè, c'è stato un gol con una bellissima azione di Camilla, lavate, che ci è stato annullato per fuori gioco, da lì ci siamo sbloccate, abbiamo iniziato ad andare molto meglio. Poi, vabbè, stiamo affrontando comunque tutte le partite con tanta aggressività, perché, insomma, il risultato è quello che ci interessa, alla fine. E non abbiamo intenzione di mollare il corpo, quindi siamo tutte molto motivate, anche durante gli allenamenti c'è sempre tanta competizione. Stiamo facendo bene. Bene, bene. E come vi state preparando per la prossima? Beh, sempre con tanta intensità durante gli allenamenti, anche questa settimana, abbiamo fatto tutta la grande. Abbiamo la trasferta a Chievo... Sì, no, scusami, la prossima giochiamo in casa, quindi... In casa, sì. Quella dopo a Chievo. Quindi no, dai, vediamo come va. Bene, bene. Sono convinta che andrete molto bene. Siete molto... Insomma, si vede motivati, come dicevi tu prima. In generale, voglio dire, spiritonito, capocannoniere, prima in classifica, come possiamo dire, prima in posizione, non lo so, vabbè, comunque. Tu come la vedi questa cosa? Cioè che lei, in quale modo, secondo te, può rappresentare una certezza per la squadra? Cioè questa posizione, no? La posizione, la sua posizione. Sì, allora, io, vabbè, ho la fortuna che, vabbè, da dicembre sono venuta a abitare qua, sotto di lei. Quindi, parlando già sotto il punto di vista professionale, Spie è una ragazza che si impegna tantissimo. Sta attenta a tante cose, anche a partire dall'alimentazione, dalla palestra. Cioè come stile di vita, il suo è molto... è da atleta. Quindi questo sicuramente l'avvantaggia tantissimo. Poi da dicembre ha perso tanto peso, quindi è molto in forma. E dal punto di vista del gioco, della squadra, penso che ora sia diventata un punto di... Vabbè, lei ha 25 gol, quindi... Sì. È sopra di 5 gol alla seconda marcatrice. È diventato un punto di riferimento, perché è una sicurezza, tra virgolette. Tutti palloni che gli arrivano, lei riesce a gestirli e metterli in porta. Ha questo feeling con la porta che è difficile da trovare, secondo me, in una calciatrice. Ogni tanto glielo chiedo, ma spi come fai sempre a segnare? Lei fa... Genetica, imprendi. No, in che stile sposto. E in realtà siamo una cosa sola, mi dice. E vabbè, insomma, penso che la squadra si sia resa conto fin da subito che lei aveva questa caratteristica. Poi lei, essendo molto rapida, i difensori fanno tanta fatica. Fa un po' più fatica con i difensori più fisici, perché lei, essendo più minuta, però quando ha palla sa sempre cosa fare. Si è stata veramente molto esaustiva. Invece, ascolta, tu sei arrivata abbastanza recentemente alla Ternana, cioè sei arrivata nel 2022. Sì, sono arrivata per questa stagione qua, ad agosto. Come si realizza il tuo passaggio alla Ternana? Beh, senti, io ero, come ti ho detto, a Verona l'anno scorso. Vabbè, poi mi ha contattato sia il mister che è Isa, la direttrice sportiva, e mi hanno parlato di questo progetto. io non ci ho pensato due volte, anche perché la società Ternana come società ha delle grandi possibilità. Poi, vabbè, mi hanno parlato di un gruppo giovane, quindi ho accettato molto volentieri. sicuramente per me è stato un anno un po' così, nel senso che ho giocato poco, però sto imparando tanto e penso di star migliorando molto. Poi, vabbè, il mister e la squadra mi trovo bene, ho avuto dei periodi un po' di alti e bassi, però, insomma. Va bene, ma poi vedrai che sicuramente, cioè, man mano che vai avanti, sicuramente, no, migliorerà tutto e magari... No, 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 sì, sì, per questo non ho dubbi. Anche l'esperienza. Non ho dubbi, assolutamente, anzi. Voi siete tutte in gamba, io lo dico sempre a tutte, ogni volta che vi intervisto. Siete veramente bravi, si vede proprio che ci mettete impegno, spirito, dedizione. Ogni volta c'è sempre quella grinta. Sì, guarda, sotto questo punto di vista, secondo me, il femminile può darti quel qualcosa in più, perché noi, quando ci mettiamo in testa qualcosa, quello è... siamo molto più determinate, secondo me. poi molto più attente ai particolari rispetto a un ragazzo, perché lo prendiamo come se fosse un'opportunità di vita, ogni cosa che facciamo. Ecco, tra l'altro ho visto, lo dicevo pure con Giulia Fusarpoli, quanto l'ho intervistata, che avete fatto un allenamento misto, ragazzi e ragazze, per l'8 marzo, se non sbaglio. Sì, sì, sì. E tu come ti sei trovata, Francesca? Guarda, ti dico, io una cosa del genere l'avevo già fatta a Sassuolo, e per me avere un contatto con anche la società maschile è molto importante, anche perché lì si parla di professionismo puro. I ragazzi sono molto bravi con noi. Avevamo molto più contatto all'inizio dell'anno, perché allenandoci all'antistadio li vedevamo spesso, quindi vedevamo la palestra e tutto quanto. però da parte della società c'è la stessa attenzione sia per il maschile che per il femminile, questa è una cosa che secondo me ci dà molta importanza. Quindi qui l'ambiente è molto sereno e tranquillo, sia tra i maschi che tra i femmini. a me è piaciuto. E che vi dicono i colleghi maschi? Non li vediamo molto, però c'è stata un'occasione in cui sono venuta a vedere le partite, noi ogni tanto andiamo allo stadio, ogni tanto Terni, essendo grande, ci si vede, ci parliamo come se fossimo, se non ci fosse tutta questa differenza. E a proposito di esperienza calcistica, io sbirciando sul tuo profilo social ho visto un po' anche che tra l'altro tu ci hai avuto delle esperienze in nazionale, se non sbaglio, Under 17 e Under 19. Esatto. Senti, ti va di raccontarci un po' queste esperienze, qual è il ricordo più bello che hai e cosa ti hanno lasciato da un punto di vista professionistico appunto? Vabbè, a parte che c'è sempre tanta competizione quando vai, ognuna delle ragazze ti porta qualcosa di differente dal punto di vista calcistico e anche mentale, perché c'è comunque chi arriva da squadre big e chi arriva da club minori. Quindi c'è questa condivisione positiva secondo me. Poi, vabbè, tu quando fai allenamenti o comunque sia delle competizioni hai poco tempo a disposizione e quindi non c'è tutta questa amalgamazione non era parte del gruppo. Però, insomma, pian piano sicuramente sono belle esperienze. Poi, vabbè, io ho avuto la possibilità di fare anche l'europeo con l'Under 19 e quindi è stato molto piacevole. Ti vai a confrontare contro ragazze che giocano e magari sono anche professioniste. impari a vivere le giornate diversamente perché pensi solamente a quello. Ti ci dedichi proprio, cioè, tutta la giornata impegnata totalmente su questo. Ecco, infatti mi viene spontaneo anche chiederti, no, a questo punto, perché io me lo so sempre chiesto, in realtà, penso un po' tutti, ma anche per averci un quadro proprio più chiaro. Come, cioè, quanto è impegnativa la vita di un atleta e come si, diciamo, caratterizzano le vostre giornate? Allora, senti, noi siamo, almeno, io parlo personalmente, quindi io sono una abbastanza fissata con quello che faccio. Quindi, sono una che se deve far l'extra lo fa, se non mi sento in forma fisicamente aggiungo cose, comunque sia se mi rendo conto che mi manca qualcosa mi informo. Quindi, io ti dico, vabbè, noi abbiamo allenamenti tutte le mattine con la squadra. Poi, a giorni alternati io aggiungo l'allenamento in palestra quando mi serve, nel senso che se mi serve qualcosa di più per allenare di più la resistenza, vado a fare allenamenti extra per la resistenza. Comunque, sono una che si impegna sotto questo punto di vista e non si fa problemi ad aggiungere. E poi, vabbè, il tempo restante noi siamo tutte qua vicine, quindi siamo sempre, condividiamo tanto tempo insieme. E' bello, però, ecco, dal punto di vista mentale non è sempre semplice, perché se lontano da casa, se lontano dagli amici, devi comunque adottare uno stile di vita differente, perché a casa ognuno fa i suoi ritmi, le sue cose, qui invece devi condividere tanto tempo con persone che magari non conosci nemmeno, o comunque sia conosci inizio anno e poi devi passarci l'anno insieme. Quindi, impari a convivere tanto e arrangiarti soprattutto, perché dal momento in cui esci di casa ti impari ad arrangiare. Eh, certo, proprio impari a vivere, no? Sì. Nel senso, vabbè, sì, uno la routine è sempre quella, però magari, certo, ti cambia proprio prospettiva, insomma. Sì, certo. Va bene, Francesca, allora, noi ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato questi minuti di chiacchierata oggi, speriamo di riamerti presto. Speriamo, va bene. Speriamo, e niente, noi intanto ricordiamo anche che il prossimo appuntamento in campo con la Ternara Calcio Femminile è domenica 23 aprile alle ore 15 sta di Moreno Cubiotti di Narni e niente, Ternara Focus tanto continuerà con le sue puntate, quindi benissimo, ti ringraziamo molto, Franci, grazie mille, e in bocca al buco per tutto. Grazie. Grazie a te, buona giornata. Ciao, ciao, grazie altrettanto.